E' con noi Michael Desiderio, si è appena scritto al Deep Event di questa edizione 2012 delle ISOP e Michael è il detentore del titolo Deep, il campione italiano Deep del 2011. Ciao Michael e ben arrivati. Ciao, buongiorno a tutti. Siamo arrivati ieri sera dopo il viaggio. Oggi vediamo di ripetere quello che è successo sei mesi fa, speriamo. Di ripetere l'impresa, è stato bello comunque arrivare ad alzare il trofeo del win. E' stato un bel torneo, abbastanza bello. Strutturato bene, bui giocatori, bello. Un bel torneo. Meritava, merita di rifarlo. Non sono riuscito a fare il main un'altra volta, vediamo di farlo questa volta. Così completiamo tutti gli eventi di ISOP un po' più... Lo sai Michael che quest'anno tra l'altro c'è l'ISOP Player of the Year, quindi il giocatore che riuscirà a conseguire più piazzamenti e che arriverà almeno a un tavolo finale andrà a Las Vegas a giocare un evento delle World Series of Poker con una truppa al seguito. Sì, questo l'avevo letto sul blog, su un po' di blog così e speriamo di fare qualche piazzamento buono a questo giro. Ci fai vedere una cosa? Questo qui, non so se si può vedere, è l'orologio che avevano i winner dell'inizio 2011 con il tricolore e sono veramente contenta di vedere te lo indossare. Speriamo che porti fortuna, speriamo. L'augurio te lo facciamo, grazie a dopo. Grazie a te, ciao. Grazie a tutti.